Una storia per fortuna con un lieto fine. La vicenda si svolge sul volo Catania-Milano-Malpensa. Un passeggero, improvvisamente, ha accusato un malore ed è entrato in arresto cardiaco a salvargli la vita un giovane medico siciliano e innocenzo infantino originario di Grotte. Ho controllato il polso e ho notato l'assenza di battito. Ho cercato il battito carotideo, ma senza esito. Ho verificato che l'uomo non avesse alcun riflesso. Era chiaro a quel punto che era andato in arresto cardiaco. Mancavano solo 20 minuti a lateraggio quando innocenzo infantino, il medico, ha dovuto praticare ben 90 compressioni della manovra cardiopolmonare. Il cuore del paziente però non riprendeva a battere. Momenti dunque di tensione. A quel punto l'uomo ha capito che serviva il defibrillatore. Ho applicato gli elettrodi e la prima scarica ha fatto miracolosamente ripartire il battito cardiaco. Quando l'aereo è arrivato a destinazione, l'uomo è stato raggiunto a soccorso da un'ambulanza precedentemente allertata dal personale di bordo e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Grazie.